Tre grandi luci per la nostra vita. L'omelia del Vescovo Palletti nella festa che compie il Natale ma già ci rimanda alla Pasqua di Resurrezione. Trovate i passaggi più significativi in apertura della pagina spezzina di Avvenire. Il Vescovo si è soffermato in particolare nella Messa del 6 gennaio sulla figura dei Magi. E durante la celebrazione della Messa è stato anche consegnato il Premio della Bontà che quest'anno è andato all'Associazione Vittoria di Sarzana. E poi sempre restando in tema di Natale e di Presepe proseguono gli incontri promossi dalla Fondazione Carispezia nell'ambito degli eventi collaterali alla mostra Admirabile Signum che si può ammirare negli spazi di fondazione fino al 30 gennaio. A centro pagina è il ricordo di Don Gigino. Resta viva dopo 20 anni la testimonianza pastorale ed educativa di Monsignor Orengo. E a fondo pagina Abitare la Terra, una via di fraternità. Sabato prossimo a Sarzana nel Salone Multimediale del Consorzio Cometta, la Casa della Missione, alle 16.30 si terrà la presentazione di questo libro, appunto Abitare la Terra, quale via per la fraternità universale. E poi la gioia dei volontari, buon augurio per tutti. Sono stati tanti i volontari che anche nei giorni di festa si sono dedicati appunto agli altri. E infine a fianco la devozione a Lucia, la Santa della Luce, portò Dante a Pugliola sul Monte di Lerici. Ne parlerà Egidio Banti nel corso di una lezione che si terrà all'Università delle Tre Età mercoledì prossimo in sala consigliare a Lerici. E l'articolo di Spalla, nuove strade di lettura biblica ebraico cristiana. Si tratta di un incontro online che si terrà domani pomeriggio. Tutte le informazioni si possono recuperare sulla pagina Facebook della coordinatrice Franca Landi. Queste le principali notizie che potrete leggere domani sull'inserto spezzino del quotidiano cattolico a venire. Grazie a tutti.